Tutto pronto per la prima sfida ufficiale dei Lupi che domani affrontano il Renate in Coppa Italia fuori casa con fischio d'inizio alle ore 18. Il tecnico Piero Braia, come già preannunciato nella conferenza stampa di ieri, non avrà a disposizione una squadra pronta sotto il profilo della condizione, vissi ritardi nell'allestimento della Rosa e le sole due amichevoli ufficiali disputate contro Fiuggi e Cavese nello scorso fine settimana. Con appena 17 elementi portati in ritiro l'allenatore toscano ripartirà dal 3-5-2, questa la formazione più probabile che vedrà Forte in Porta, Dossena, Miceli e Rocchi in difesa. Sulle corsie del centrocampo ci sarà Ciancio a destra e Adamo a sinistra dei Francesco Plei con Aloi e Bruzzo interni. In attacco Maniero e Santaniello. Intanto gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell'infortunio di Giuliano Laezza. Il referto ha evidenziato una lesione al legamento crociata anteriore al menisco del ginocchio destro. Lo staff medico è in questione al lavoro per predisporre l'iter necessario. Nei prossimi giorni Laezza si sottoporrà di intervento chirurgico, dopo il quale verranno stabiliti i tempi di recupero che potrebbero oscillare tra i 6 e 7 mesi. E inevitabilmente dunque di somma dovrà tornare sul mercato per assicurarsi almeno due difensori di provata esperienza.